Le luci si spengono sulla ribalta, chiude questa quarta edizione dei World Sport Games una bellissima edizione partecipata, piena di iniziative, quindi non soltanto sport ma anche convegni, dibattiti, approfondimenti sul mondo dello sport e sui valori dello sport, soprattutto sulla lotta al doping, sulla funzione sociale dello sport. Credo che si possa chiudere questa manifestazione e archiviarla con un ottimo voto e considerare veramente e positivamente tutto quello che si è svolto e dal punto di vista qualitativo con un grande valore aggiunto rispetto alle edizioni precedenti.